Musica Eccoci qui con Massimo Siano. All'ultimo incontro che è stato all'incirca due mesi fa aveva già lanciato l'allarme. Stanno avanzando i populisti in tutto il mondo occidentale. Questo cosa significa come ricadute sugli investimenti? Diciamo che i professionisti delle barzellette francamente non fanno ridere al mercato. Su questo non c'è dubbio. Però mettiamogli la prova e vedremo. Io credo che l'uomo non conti niente se il sistema che lo supporta non è efficace. Quindi io credo che abbiamo avuto negli Stati Uniti presidenti buoni e presidenti cattivi e nonostante i presidenti siano stati più o meno efficaci la finanza è andata avanti lo stesso perché il sistema americano è ben consolidato ed è solido. Il problema forse è più in Europa dove i sistemi costituzionali non sono così efficaci con i pesi e i contrapesi su politici che mantengono probabilmente poco o perlomeno il mercato crede che mantengono poco. Quindi nel caso di vittoria del non referendum di domenica cosa possiamo aspettarci e su quali titoli i settori puntare? Io non vedo da così tanto tempo un'area così negativa sui mercati e credo che sia la prima volta in assoluto che vedo un voto non tanto contro il governo ma contro l'Europa quindi se vincerai il no credo che sia un segnale molto negativo e quindi consiglierei di stare molto liquido oppure andare sugli ATF short sul Fuzimib. Invece guardando all'Outlook 2017 visto che siamo per entrare nel nuovo anno quali sono a suo avviso i settori più interessanti? Sicuramente il settore delle infrastrutture americane chi ha costruito olio, dotti e gasdotti ha finanziato i repubblicani e Trump e quindi Trump e i repubblicani per rivincere le elezioni devono riavere i voti degli stati che li hanno eletti in quegli stati lì passeranno olio, dotti e gasdotti che è economia e produttività quindi pensiamo che la nuova amministrazione americana solleciterà l'investimento per olio, dotti e gasdotti noi su questo abbiamo anche un ATF siamo stati anche abbastanza fortunati a farlo due anni fa Ci sono invece dei titoli di piazza affari che potrebbero beneficiare della nuova tendenza della cosiddetta Trump Economy? Aspettiamo di vedere cos'è la Trump Economy e poi vediamo ma credo che i titoli di piazza affari oggi siano molto più così, tranne alcuni sono molto più orientati a cosa sta succedendo in Europa che dall'altra parte dell'Atlantico Se l'economia americana continuerà a viaggiare a questo ritmo credo che i titoli automobilistici europei quelli che non pagano le multe avranno dei notevoli vantaggi questo credo che sia una banalità ma è indubbio perché sono anche titoli ciclici A questo ritmo? Perché abbiamo visto ora che sta crescendo al 3% e più? L'America sta viaggiando molto bene non c'è dubbio ci aspettiamo che la Fed riserva aumenti i tassi a dicembre il mercato si aspetta anche che la Fed continuerà a aumentare il prossimo anno vedremo sicuramente hanno un tasso di disoccupazione minimo rispetto agli ultimi 10 anni complimenti a loro hanno fatto i compiti a casa adesso tocca all'Europa seguire la strada degli Stati Uniti Settore immobiliare come lo vede? Malissimo personalmente ha un aumento dei tassi di interesse sia negli Stati Uniti che in Europa eventualmente se ci sarà nel settore immobiliare non potrà reagire che negativamente Perché sono società indebitate? Semplicemente perché il settore immobiliare è un settore strano perché deve distinguere tra società che comprano quindi uffici eccetera quindi commercial e real estate real estate lì bisogna vedere i singoli progetti cioè un real estate diciamo per residenziali a Torino o a Milano il panorama è diverso diciamo che io vengo da Londra e vedo la Brexit e diciamo non è in buone acque quindi l'immobiliare è un ottimo bene un ottimo bene che funziona quando c'è euforia in questo momento probabilmente il mercato sta vedendo il bicchiere a mezzo vuoto